Partito dunque questo 800 metri, intanto arriva la clap dalla pedana del lungo Dennis Rigamonti in pedana Applausi dunque per Rigamonti che è saluto al pubblico di Bergamo Intanto vediamo presentarsi sul primo retilineo tutta la nostra postazione Davanti Alessandra Aceti, vediamo anche Acquaro Previsa atletica là davanti insieme anche a Moretti Circa 53 secondi il passaggio E vediamo che passa Acquaro E vediamo poco più di 200 metri Vediamo anche Riccardo Tamassia dietro Acquaro Ovviamente si cerca un tempo decisamente al di sotto dell'1.50 Ed eccolo sul retilino finale Gabriela Acquaro Prodato dell'1.50 Riccardo Tamassia cerca di tornare sotto anche migliorati E vediamo Acquaro che va a chiudere 1.48.35 Quindi rispettato anche il pronostico di scendere sotto il minuto e 50